Don Giosuola Lombardo, parroco della Basilica di Santa Croce, nello scorso fine settimana è stata esposta nella navata centrale della Basilica l'immagine dell'Immacolata Concezione. Sì, e quest'anno ha una particolare valenza perché torna con l'immagine dell'Immacolata la sua presenza nella navata centrale della Basilica, non su un trono come negli anni passati perché ci prepariamo poi ad esporla solennemente sul carro votivo. E proprio questa mattina, lunedì 21, è stato aperto il cantiere per la costruzione, e qui, meglio dire, per l'assemblamento del carro votivo 2022. Da poco abbiamo celebrato con tutti i carabinieri, con la campagna carabinieri di Torre del Greco, la Virgo Fidelis. Ora siamo nella novena di San Vincenzo, il 30, iniziamo solennemente la novena dell'immacolata con la messa delle 7.30 del mattino, 9.30, alle 18 il rosario, il canto delle litanie, il totapulcra, la messa e poi, come sempre, alle 20.30 la preghiera sorale della buonanotte a Maria. Ecco, colgo l'occasione per ricordare che dobbiamo prepararci spiritualmente a celebrare la solennità dell'immacolata concezione della Vergine. E poi sono previsti alcuni incontri anche di riflessione e di preparazione con i portatori, le date le trovate sui social e sul programma, così anche per il sacramento della confessione. Prepariamoci, ecco, come ci teneva a fare San Vincenzo, onorare la mamma con un cuore aperto, purificato, gioioso, peregrinante.